presentiamo la nuova sense mantra che è la nuova scarpa di salomon per quanto riguarda la linea è una scarpa che deriva direttamente dalla scarpa da gara di Kilian Jornet che è il nostro atleta di punta portata a livello di un utilizzatore diciamo normale è una scarpa caratterizzata da un profilo come potete vedere molto basso abbiamo 10 mm nella parte anteriore 16 mm nella parte posteriore e rispetta perfettamente quello che è il nuovo sistema di coro il nuovo modo di correre nel senso che la tendenza di chi corre oggi sta cambiando si corre molto di più sull'avampiede e per cui è necessario avere un profilo molto basso le principali caratteristiche della scarpa quali sono? abbiamo il sistema SensiFit che è un sistema esterno per la chiusura della scarpa grazie al quick lace in modo da chiudere perfettamente sul collo del piede e offrire una chiusura molto uniforme all'interno della scarpa abbiamo questa rete che si chiama Endofit che va a migliorare ancora quello che è la chiusura sul collo del piede abbiamo un nuovo tipo di suola che è un brevetto salomon in modo da offrire un'ottima trazione in salita ma un'ottima tenuta anche in discesa su terreni molto accidentati abbiamo questo microfilm all'interno della suola che evita specialmente su terreni molto sconnessi quello che è il fatto di sentire i sassi appunto per cui una protezione molto forte per quanto riguarda la suola All'interno della suola è un'ottimo